Allora facciamo un attimo una ripresa velocissima questo video velocissimo per farvi vedere la luminosità della spada laser Kylo Ren in vendita su carnival halloween.com che è il nostro negozio di vendita online di costumi e travestimenti quello che vedete siamo in una stanza buia questo per far vedere siccome molto spesso tanti nostri clienti ci chiedono quanto vengano si illuminino le spade laser queste qui sono le spade laser senza suoni la spada laser di Kylo Ren come vedete in vendita sul nostro negozio è l'ufficiale ufficiale star wars disney marcata disney come vedete si illumina solo la lama centrale cioè la lampada è solo sulla lama centrale come vedete ora vi farò vedere invece mandiamo un attimo alla luce la spegniamo un secondo andiamo un attimo alla luce mi apri un attimo alla tenda grazie la spada è quella con l'elsa la cosiddetta elsa chromewell che è quella a croce in pratica è telescopica la chiudiamo chiude molto semplicemente con la chiusura e poi ha il suo blocco sopra che scusate sto facendo con una mano con l'altra eccetera e il blocco la 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 tiene come avete visto la la lampada si comanda con il pulsantino l'elsa è veramente molto molto bella verniciata in maniera molto rifinita davvero molto realistica proviamo ad accenderla di nuovo per farvi vedere che la parte che si accende la parte interna che si proietta all'interno di tutta la lama